La seconda domanda ragazzi, chi? Vai! Da quanti anni giochi a calcio? Gioco a calcio da quando avevo 7 anni, giocavo in oratorio, poi sono andato nella mia squadra di paese, poi mi ha preso l'Atalanta e ho fatto tutto l'estruttore giovanile a Bergamo. Io sono rimasto in oratorio, pensate, non penso che sono un po' più mosso da... Altra domanda ragazzi? Grazie mille. Ciao Mattia, vorrei chiederti quali i giocatori più forti con cui tu hai già mai giocato. Devo dire che Higuain, vedendolo anche in allenamento, mi ha sorpreso perché è davvero un'attaccante che sa fare tutto.